Riaprirà fra qualche giorno l'asilo nido di Via Indipendenza. La struttura che avrebbe dovuto riaprire i battenti il 15 ottobre è oggetto infatti in queste ore di alcuni lavori di manutenzione che hanno fatto slittare l'inizio delle attività. Molti genitori però hanno contestato tale decisione poiché non comunicata dagli enti preposti al momento della presentazione della domanda. L'amministrazione ha confermato che non vi sono responsabilità dirette da parte del Comune ma del piano di zona che gestisce la struttura che non avrebbe informato Palazzo di Città dei ritardi nell'apertura.